senza cambiare rapporto con la natura assisteremo ad altre epidemie come questa come ormai quasi tutti gli esperti dicono la pandemia di covid 19 determinata dal coronavirus ha molto a che fare con l'ambiente e con le campagne di greenpeace giovanni maga direttore dell'istituto di genetica molecolare del cnr igm di pavia spiega per esempio che i fattori coinvolti nella crescente frequenza di epidemie degli ultimi decenni sono molteplici cambiamenti climatici che modificano l'habitat dei vettori animali di questi virus l'intrusione umana in un numero di ecosistemi vergini sembra maggiore la sovra popolazione la frequenza e rapidità di spostamenti delle persone è uno scenario che conosciamo bene purtroppo in un rapporto del 2007 sulla salute del ventunesimo secolo l'organizzazione mondiale della sanità la stessa che pochi giorni fa ha definito ufficialmente quella del coronavirus una pandemia avvertiva che il rischio di epidemie virali cresce in un mondo dove il delicato equilibrio tra uomo e microbi viene alterato da diversi fattori tra i quali cambiamenti del clima e degli ecosistemi altri coronavirus come sars e mers e virus particolarmente gravi come l'hiv e l'ebola sono lì a testimoniarlo un campanello d'allarme la diffusione di questi nuovi virus in poche parole sarebbe l'inevitabile risposta della natura all'assalto dell'uomo come spiega la virologa ilaria capua che dal 2016 dirige uno dei dipartimenti del emerging pathogens institute dell'università della florida tre coronavirus in meno di vent'anni rappresentano un forte campanello di allarme sono fenomeni legati anche a cambiamenti dell'ecosistema se l'ambiente viene stravolto il virus si trova di fronte a ospiti nuovi in altre parole distruggere la natura finisce quasi sempre per avere un impatto sulla nostra salute se intervieni su un ecosistema e nel caso lo danneggi questo troverà un nuovo equilibrio che spesso può avere conseguenze patologiche sugli esseri umani è un meccanismo che viene raccontato benissimo da david coman l'autore di spillover l'evoluzione delle pandemie saggio che in queste settimane è letteralmente andato a ruba in tutte le librerie italiane lo cito parola per parola da un'intervista che ha appena concesso a wiret le ragioni per cui assisteremo ad altre crisi come questa nel futuro sono che primo i nostri diversi ecosistemi naturali sono pieni di molte specie di animali piante e altre creature ognuna delle quali contiene in sé virus unici due molti di questi virus specialmente quelli presenti nei mammiferi selvatici possono contagiare gli esseri umani tre stiamo invadendo e alterando questi ecosistemi con più decisione che mai esponendoci dunque ai nuovi virus e quattro quando un virus effettua uno spillover un salto di specie da un importatore animale non umano agli esseri umani e si adatta alla trasmissione uomo uomo beh quel virus ha vinto la lotteria ora ha una popolazione di 7,7 miliardi di individui che vivono in alte densità dermografiche viaggiando in lungo in largo attraverso chi può diffondersi se si presta ben attenzione il rischio di spillover è grande quanto il globo nel caso del coronavirus le ricerche si concentrano sulla giungla della cina e sulle popolazioni di pipistrelli locali ma nei casi di epidemie recenti il virus sarebbe stato trasmesso da altri animali selvatici civetta delle palme dromedari primati e i luoghi di origine sono associati ai deserti del medio oriente o alle foreste tropicali dell'africa così come nuove patologie possono emergere ed emergono tanto dall'amazzonia quanto dalle foreste dell'australia anche il micidiale virus ebola sarebbe arrivato all'essere umano grazie a un salto di specie e per quando ancora l'origine non sia certa gli scienziati sospettano sempre di più dei pipistrelli che sono mammiferi come noi ma volano crisi climatica e virus antichi ma il rischio potenziale potrebbe anche essere più esteso assumendo una dimensione temporale lo scioglimento di ghiacci e ghiacciai infatti potrebbe rilasciare virus molto antichi e pericolosi nel gennaio 2020 per esempio un team di scienziati cinesi e statunitensi ha comunicato di avere rintracciato all'interno di campioni di ghiaccio di 15 mila anni fa prelevati dall'altopiano tibetano ben 33 virus 28 dei quali sconosciuti tracce del virus della spagnola sono state ritrovate congelate in alaska mentre frammenti di dna del vaiolo sono riemersi dal permafrost nella siberia nord orientale proprio il permafrost rappresenta un ambiente perfetto per conservare batteri e virus almeno fin quando non interviene il riscaldamento globale liberarli e che ciò possa avvenire lo testimonia un episodio dell'estate del 2016 quando sempre in siberia l'entransa ha ucciso un adolescente e un migliaio di renne oltre a infettare decine di persone clima e infezioni viaggiano insieme a evidenziarne il legame per esempio è l'anset countdown report 2019 che associa i cambiamenti climatici proprio a un'amentata diffusione delle patologie infettive in un pianeta più caldo virus batteri funghi parassiti potrebbero trovare condizioni ideali per esplodere diffondersi ricombinarsi con un aumento tanto della stagionalità quanto della diffusione geografica di molte malattie è un rischio che a greenpeace abbiamo identificato per tempo già nel rapporto greenpeace sul riscaldamento della terra che compie 30 anni tondi essendo del 1990 l'epidemiologo Andrew Haynes che successivamente sarebbe diventato direttore della londo school of higien and tropical medicine avvertiva che tra gli effetti secondari dei cambiamenti climatici la diffusione dei vettori di malattie dovrebbero essere causa di preoccupazione in poche parole se per il coronavirus il meccanismo identificato dagli scienziati è quello di un salto di specie innescato dalla promiscuità con animali selvatici amplificato dalla concentrazione di popolazione nelle megalopoli e trasportato dalla globalizzazione la crisi climatica potrebbe offrire scenari ancora più pericolosi ovvero il riemergere dai ghiacci dei poli o dai ghiacciai dell'Himalaya di virus che il loro spillover lo hanno effettuato in tempi remoti e che pensavamo di avere debellato per sempre o peggio ancora di patologie che non conoscevamo affatto potere e responsabilità come sostiene David Quammen insomma più distruggiamo gli ecosistemi più smuoviamo i virus dei loro ospiti naturali e ci offriamo come un ospite alternativo la soluzione può essere solo in un completo ripensamento della nostra relazione con la natura proteggere la biodiversità fermare la crisi climatica frenare la distruzione delle foreste e ridurre il consumo di risorse ricorda qualcosa sono questioni da sempre al centro delle campagne di greenpeace e delle nostre comunicazioni quando la pandemia di coronavirus sarà cessata bisognerà intervenire sui fattori che l'hanno determinata senza operare quel meccanismo tipico di rimozione per il quale politici giornalisti opinione pubblica si riempiono della parola clima per esempio in presenza di uragani alluvioni o incendi devastanti salvo dimenticarsene un secondo dopo se ciò non avvenisse se non si agisse sulle cause della diffusione di nuovi virus che sono anche ambientali continueremmo a vivere in una condizione di grave rischio potenziale il perché lo spiega ancora l'area capua noi viviamo in un ambiente chiuso come se fossimo in un acquario la nostra salute dipende per il 20 per cento dalla predisposizione genetica e per l'80 per cento dai fattori ambientali la cura deve studiare oltre all'organismo in questione anche il contesto non possiamo uscire da questa situazione da questo dilemma ricorda quamen siamo parte della natura di una natura che esiste su questa pianeta e solo su questo siamo troppi 7,7 miliardi di persone e consumiamo risorse in modo troppo affamato a volte troppo avido il che ci rende una specie di buco nero al centro della galassia tutto è attirato verso di noi compresi i virus in altri termini possiamo dire che la specie umana ha preso da tempo il comando delle operazioni sulla terra sottomettendo la natura ad azioni spesso irreversibili è diventata un agente di trasformazione come una forza geologica tanto che gli scienziati usano il termine antropocene per definire l'epoca attuale come sempre accade a un potere quasi sconfinato e distruttivo bisogna sapere associare criteri di responsabilità altrettanto importanti per evitare che l'impatto di tali trasformazioni sia devastante e si ritorca contro noi stessi mettendo a rischio la stessa specie umana non stiamo parlando del pianeta ma dei suoi abitanti di noi e dei nostri figli articolo di andrea pinchera direttore della comunicazione di greenpeace italia sono valentina e sono la voce di questi video lasciate un commento qui sotto e un like se questa audio notizia vi è piaciuta per approfondimenti aggiornamenti vi aspettiamo sul sito di dolce vita www.dolcevitaonline.it ultima cosa importante iscrivetevi al nostro canale se questi video sono di vostro gradimento e ne volete ancora ciao